Ora andiamo a vedere il miglior horror, il miglior horror, vediamo un pochettino cosa mi... Allora da una parte abbiamo una qualsiasi suona, dall'altra parte abbiamo un maledetto che cuce la bocca delle persone con i cu delle persone Però posso dirti che The Nun fa proprio paura, cioè non è che fa proprio paura, The Nun è vecchio una suora maledetta, un demone suora, è l'apoteosi dai Terrifair o Psyche? Eh brother ma io non ho mai visto Terrifair, ma avete mai visto voi Terrifair? Su Prime Video, Terrifair, eh brother io ti dico Terrifair perché... no non è vero, Psyche è storico brother, adesso non l'ho visto quindi andiamo in Psyche Non aprite quella porta o Halloween? Eh il problema cos'è? Il problema ragazzi è che non aprite quella porta non ha un cazzo di senso Io me lo ricordo che questo film non ha un porco 2 di senso, bello ma non ha un fottuto di senso Michael Myers? No forse ti dico che mi è piaciuto di più non aprite quella porta Tremors o The... The Host? Qual è che era The Host? È giapponese tipo, di quelle robe che fa mega iper paura Sì Tremors è quello lì dei vermi giganti, giusto? Mi sa che è quello, no? No quello era... no Worms Però io ti voto The Host solamente perché è giapponese, eh però vecchio It, cioè It del 2017, It è veramente fatto bene, eh Veramente molto bello fra, veramente molto bello, veramente molto bello, cioè non mi è dispiaciuto per nulla L'hanno rifatto veramente molto bene The Orphanage qual è? The Orphanage Oddio che carino, oddio che carino Questo me lo segno The Orphanage Che carino Io voterei It, bello ma quello vecchio 1000X Brother, sì, però per gli effetti speciali, per tutte le cose di quello nuovo Per noi persone che non vuoi siamo ormai abituati a certi utilizzi di qualità ma soprattutto di effetti Non è che dici che è stato disgustoso, capito? È stato fatto bene lo stesso Fra, Sinister, Sinister, questo mi fa cagare un botto addosso Questo mi fa cagare un botto addosso L'ho rifatto ripartire l'altro giorno, madonna mia Mamma mia Cube o La Iorona? Eh, bro, è Cube, non ho presente qual è Cube, invece ho capito qual è Oddio, cosa mi ha tirato fuori, Cube Bellissimo La Iorona, la Iorona fa parte di tutto quello lì che è nel mondo di The Conjuring, vero? Anche la Iorona, le serie di film No, non è The Conjuring, l'altro, com'è che si chiama? No, no, The Conjuring, ok, The Conjuring, ci dovrebbe essere anche tutte le robe Eh, vedi? Ah, vedi, la Iorona, certo In The Conjuring, in alcune scene, vedi te e Annabelle E allora di Annabelle poi vai a vederti i film di Annabelle Che poi dopo c'è The Nun, è tutto unito Bro, è molto bello, molto molto bello Hit degli anni 90 o Ice Pit on Your Grave Ehm, Laura Donorem The Ring o The Shining Bro, allora Shining è una pietra Shining è essenziale nella storia degli horror, capito? Perché dai, però anche The Ring, certo, certo È solo che Shining è un po' vecchio, ragazzi Shining è un po' vecchio Dai, ti butto The Ring, è più nuovo Bro, sei stessa bambina di me, dammi guardare, vai via Quella casa nel bosco o Annabelle? E me lo chiedi anche, figlia di tro... Mh, ma qual è A Quiet Place? È quella di quella ragazza che è sorda dove gli entra un ladro in casa Tipo che la vuole uccidere? È quello? Non so com'è, perché l'ho fatto partire e mi sono addormentato subito Mh, no, non è quello, non è quello, un altro Io mi sono addormentato, ti butto Nightmare So è un necropolis Dio bomba, ma So 1, qual è che era la tortura di So 1? Eh, mi sa, quella storica Certo So 1 è quella dei bagni dove lui si deve tagliare il piede Bro, era So 1 Mamma mia che bello, sarebbe da rifarsi tutta la serie Dai, veramente Porca boia, vecchio Final Destination Non ho visto quello nuovo Final Destination, brother La paura di Final Destination è che sono tutte cose che possono succedere realmente Capito? Tipo casualmente che quella vite del monitor si stacca Il monitor cade, tocca la tastiera, prende l'acqua, Shelby viene colpito dall'acqua, corre, fa partire la luce ed io esplodo Final Destination Falco 2 Brother Eh, adesso? Sai cos'è la roba di Paranormal Activity che fa paura? A parte che comunque è un nuovo tipo di horror Che mi ricordo quando è uscito Cioè letteralmente c'era la paura ovunque Perché era un nuovo tipo di horror Con documentari semi veri E quindi Con degli effetti speciali Miseri Perché erano tutti con le telecamere Quindi non è che avevi bisogno di chissà quale CGI Però Brother I colpi che ti fa prendere Paranormal Activity Sono tanti È tutt'ora Venerdì 13 o Poltergeist? Non ho presente Poltergeist Boh Non lo ricordo Mi sa che non l'ho mai visto Ti butto venerdì Perché non l'ho mai visto Porca troia Sinister però Bro Sinister però Eh Ti devo votare sto giro questo Che fa Bella Mi fa Mi fa cagare Bro Brother Inutile dare le lauree ad onore Dai andiamo avanti Bro Secondo me ti rimane più impresso The Nun A mani basse proprio Ti rimane impresso The Nun Cioè è anche fatto bene come film per dirvi Capito? Fatto bene Poi lo so gusti ovviamente Però Capito? Non è semplicemente Paure e robe del genere Come la lorona Dai buttiamo Hit Bro A me è un fregancazzo di nessuno dei due Scegliete voi Forse il venerdì Forse Jason Questo l'abbiamo fatto andare avanti così So Va avanti da morire Ah Hit degli anni 90 Sinister Hit Secondo me La moglie del papa Allora Allora Forse il più famoso è ovviamente l'esorcista Però se io devo valutare quello che secondo me mi piace di più È tutta la saga di So Cioè a me la saga di So piace da morire Io ti voto So perché lo preferisco Sinistro è stracrudere La scena dove si vedono i bambini che affogano Che bruciano dentro la macchina Impiccati che vengono lacerati dal tagliaerba Mi mette là Dite So Però non è Ah o So Non è puramente un horror Dai Non credo che sia horror puro So Thriller anche Capito The Nun invece The Nun è horror puro Capito Brother È che So non è proprio un horror Capito Non è che tu hai paura Rimani tipo schifato dalle robe che vedi Boh Eh Secondo me il sinistro A me Sinistro fa chi appare Cioè a me il sinistro è mito Io avevo paura tutto il tempo No bole devo votare sinistra Vediamo cosa ha votato la gente Shining per forza Sai perché? Perché la gente vota quello lì che magari Tipo in Shining è un film dell'orrore Sì però del Cioè è datato capito? E noi non possiamo valutare Bro Scream Scream un film dell'orrore Mamma mia bro Manca fa così Horror Chi vincerebbe? Bello Questo è chi vincerebbe tra i due Vecna o i degli zombie? Bro Vecna non so chi sia Ma mi dà l'idea di essere molto Più OP Degli zombie Bro Brother a mani basse Vecna ok Ghostface o Whiteface? Probabilmente White No Come ghost? Probabilmente Whiteface Freddy O Xenomorph Eh infatti anche secondo me Il Big Alien non dorme Quindi Cazzini frega Michael Myers O Huggy Wuggy Ah non so perché c'è il video di Di uno youtuber Però se ci pensi a chi vince Tra Michael Myers E Huggy Wuggy No Secondo me non vince Michael Brother Huggy Wuggy è grosso eh Huggy Wuggy è grosso Cioè Dieci piedi Dieci piedi sono dieci piedi Piedi CM Brother dieci piedi vuol dire che è alto più di tre metri Huggy Wuggy Brother Brother secondo me vince Huggy Wuggy Secondo me vince Huggy Wuggy Bro lo so che Huggy è un pupazzo Anche Michael è una persona Michael è un essere umano Capito? Musa un pupazzo un coltello lo ammazza Proprio perché un pupazzo un coltello non lo ammazza Però è vero Michael c'ha una forza fuori di testa Però Huggy Brother Huggy è tre metri Dai vado di Michaelone nazionale Ho capito Freddy Fazbear o Metroid Queen? Bro Quel Metroid è cazzuto però Se lo mangia secondo me è un robottino di stamini Dai Demogorgone o il Crabhead? Demogorgone Vabbè chi mi viene da dire Che ho due se cazzo idoso Questo è bello giovancherebbe ma lui è cazzuto Paretico Jason o Slender Brother Adesso qui confermiamo che Slenderman vincerebbe tranquillamente contro Jason Fra Lo Slender si vince Ringu Stars O Leatherface Ringo Stars Secondo me vincerebbe Ringo Ringo Stars No bro Ma lui è un umano Ma non vince lui Secondo... No bro Ma ho capito che lui ha una motosega Ma l'altra fa le... Bro io vado con Pingu dai Pingu Pingu Allora chi vincerebbe tra Xenomorficos o lo Slenderman Vecchio Secondo me vince lo Slender Si può teletrasportare di qua e di là Lo fa impazzire con i tentacoli Però lui... No bro Lui è un predatore Eh bro Era un predatore Insomma Secondo me vince Vecna Sto giro non mi potete dire che mai Colone Nazionale riuscirebbe a vincere Dai Eh no Sto giro no Eh ma un coltello Eh dai Demogorgone o il Whiteface? Sto demogorgoide vero? Ringo Stars O un metroido? Bro secondo me è... Forse potrebbe... Di Derringo? Secondo me è il metroide Bro secondo me è il mitro Io lo voto ma secondo me no È una bambina ricordo Bro del demogorgone si sfotte la bambina te lo dico io Alien o Vecna? Chi vincerebbe? Alien o Vecna? Bro Vecna Lui è un essere dai Lui è proprio poteritico Capito? È una sorta di divinità C'hai capito? Dai È un mago Eh dai Vince lui Vince lui Gli fa una vada cadrega Bro del vince Vecna È una mezza divinità Capito? Un piccolo mago divinoide Cioè vincerebbe lui Sì vabbè vincerebbe Jason Va bene Va bene Jason si fotte Vecna E si fotte anche Vabbè Ma vabbè Ma vabbè Ma che falsi che siete Ma non è vero Baby 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 You give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly E si fotte vincerebbe E si fotte vincerebbe